Ecco la spiegazione della coreografia del Flash Mob organizzato in sostegno dei Sì a referendum sull'acqua del 12 e 13 giugno. Cominciamo, piedi paralleli sotto le anche, braccia dritte e testa bassa. Sentiamo il rumore dell'acqua quando inizia una canzone, alla parola ladri alziamo la testa, poi allunghiamo la mano destra, riprendiamo la mano e chiudiamo con le mani sulla testa. Andiamo a sinistra e vado e 1 e 2 e torno indietro e chiudo. E poi vado su col braccio e l'altro braccio e quattro volte questo e vado giù, 2 e vado giù, 2 e 3 e vado giù, 4 e vado giù. Apro e 1, 2, vado indietro con le braccia, indietro con la testa, batto sul petto, mi chiudo per riaprirmi. E faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da qui vado verso destra con il piede destro, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8, ripeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimango su e richiudo. E piano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e quando dice acqua bene comune braccia. Poi gioco veloce con le mani, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro. E qui cambia canzone, scivolo con le mani addosso e salto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e il quarto avanti. Poi vengo avanti, 1, 2, 3 e il quarto, 5, 6, 7 e vado col piede destro verso sinistra. Una volta, due volte, 3 e 4, batto le mani e ritorno avanti uguale. E vado, torno indietro e 1, 2 e 3 e 4, ribatto le mani. Braccio destro, braccio sinistro, tutte e due le braccia e vado giù. Di nuovo uguale, braccio destro, braccio sinistro, tutte e due, però rimango su con le gambe e vado indietro. Perché poi vengo avanti e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ritorno indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rimango 7, 8. 1, 2, 3, 4 e poi 3 volte agli. 2, 3, torno indietro e ribatto le mani. E arrivato uguale a prima. 1, 2, 3 e ta. 1, 2, 3 e 1, e 2, e 3 e 4. Mani di nuovo, vado destra, sinistra uguale a prima, tutte e due. Scivolo giù, destra, sinistra, tutte e due. Scivolo, rimango con le gambe tese, vado indietro e di nuovo uguale. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e rimango 7, 8. Vado giù. Scendo con le braccia. Fino alla fine di questa musica aggiungo le spalle per gli ultimi 4 tempi. E poi quando cambia la musica? Tan, dritta e ta, 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 ta. Due volte, ta, 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 mi giro e vado passo avanti. Tan, 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 tan e rimango un attimo. Passo laterale destro e tan, 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 tan e vado qua. Da qui, siamo qua, mi sposto di qua per il video. Mettiamo mano davanti alla bocca. Sposto con la mano sinistra e la mano destra e le porto alle orecchie. Rivado avanti e le porto agli occhi. Scivolo giù, mi fermo sulla bocca, mi sposto e le levo. E questo. Due e ua. Qua dall'altra parte. E un e due. Due e ta, ta, un'altra volta. Uno, due, pa, pa e pa. Questi sono due otto, quindi sedici tempi di improvvisazione. Ognuno fa quello che vuole. In teoria con le braccia, quindi sono otto tempi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Mi blocco e ricomincio l'acqua e scendo giù. Ognuno come vuole, così, così, rotolando, come volete. Per vedere tutta la coreografia, guardate l'altro video. C'è la coreografia con la musica, scaricate anche la traccia e provate e venite. Potrete sapere molto presto la data e l'orario, però intanto provatela perché ci avrete più o meno un mese di tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.